ok benvenuto sul mio canale oggi vediamo come collegare alla yaris hybrid la nuova yaris hybrid un cellulare e abbinarlo all'autoradio multimediale innanzitutto accendete l'autoradio se non si accende dovete accendere prima l'auto si avvierà poi sul vostro smartphone in questo caso un iphone 5s andate su impostazioni andate su bluetooth e verificate che il bluetooth è attivo in questo caso è attivo poi andate su audio cliccate su si subito andate su origine anzi connetti andate su connetti e aggiunge nuovo dispositivo ok adesso l'autoradio multimediale vi cercherà i dispositivi che sono disponibili ecco qua qua è uscito toyota touch noi clicchiamo su iphone 5 c inante qui arriverà il messaggio di conferma e dobbiamo cliccare su abbina che si sta abbinando ci vuole un po però qui è già connesso ok il dispositivo abbinato adesso se noi mettiamo qualsiasi cosa sul nostro cellulare vedremo che si si sentirà dalle casse mettiamo amazon music in questo caso c'è bomba non bomba di venditti sotto il segno dei pesci l'album vedrete che l'album si visualizzerà qua l'icona antonello venditti bomba non bomba adesso non si sente perché devo alzare l'audio eccolo qua e poi da qui cambiate canzoni sempre sullo stesso album c'è grande raccolta anulare di guzzanti cambiate ancora ok compagni di scuola questo è il metodo per abbinare il vostro smartphone alla nuova Yaris hybrid oppure a un qualsiasi toyota da 2020 2019 in poi ok spero che questo video ti sia utile se ti è utile lascio un like ed iscriviti al mio canale ciao